Da quale padiglione vieni? Aspetta, vengo da un padiglione? Quale? Devo raggiungerlo! Sarà dura, piccola. A meno che... No, non funzionerà, è troppo folle. Che vuoi dire? Dimmelo, a me folle sta bene. Sai che me l'ero accorto? C'è una cosa che potrei fare per aiutarti a raggiungere i tuoi genitori se solo tu... Sì, idea è grandiosa! Tu mi porti da loro, come ho fatto a non pensarci. Andiamo! No, 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 se io prendo la tua targhetta, posso salire al tuo posto nel camion da trasporto e tu tornerai dentro a cercare i tuoi genitori. Non devi far altro che darmi la targhetta. Quale targhetta? Oh, ho una targhetta sulla pina. Non ti ricordi che hai una targhetta? Oh no, scusami, io soffro di perdita di memoria a breve termine. Non ricordi di cosa stavamo parlando?